Sì, sicuramente per ATER si parla adesso di ulteriore snellimento. L'ATER ha già svolto tutta la prima fase finalizzata all'affidamento degli incarichi di progettazione mediante i procedimenti ordinari. Adesso con l'ordinanza che viene presentata oggi del commissario sicuramente sono previsti degli snellimenti. Snellimenti finalizzati sia all'adozione dei procedimenti per l'effettivo avvio dei lavori ma soprattutto viene conferita la possibilità all'ATER di dare degli incarichi di RUP esterni. Quando parlo di RUP mi riferisco ai responsabili unici del procedimento. Perché questo è importante? Perché l'ATER di Teramo consta di una struttura dotata solo di un dirigente e di due funzionari che hanno la possibilità di assumere questo ruolo. Capite bene che si tratta naturalmente di una struttura che risulta sottodimensionata rispetto all'effettiva necessità. Tenuto conto che sono 61 gli edifici dell'ATER interessati dal sisma, danneggiati dal sisma. Per cui la ricostruzione di 61 edifici fatti attraverso una struttura così come quella di cui stiamo parlando risulta naturalmente difficoltosa. Adesso con questa nuova ordinanza che ci consente di fare ricorso a queste nuove figure sicuramente sarà più semplice poter avviare la seconda fase dell'effettivo affidamento dei lavori.